Ciao Glitters e bentornati sul canale, qui da noi è già arrivata la Befana! Eeeh, camera girl, è perché stai inquadrando a me, non ho capito, ti sembro la Befana? Aspetta, Candy, ti aiuto io! Oh, come pensa sta cosa? Ta-da! Grazie a giochi preziosi, infatti, oggi scopriremo il contenuto del calzettone LOL Surprise OMG Remix Guardate che bella la calza, è stupenda Ed ovviamente qui nel retro i vostri genitori possono mettere anche altre cosine, tipo i dolciumi Sì, mettete tanti dolciumi alle Glitters, mi raccomando, mamma e Glitters e papà Glitters Qui con noi oggi ci sono Jenny e Gennarino, Gennarino è un esperto di unboxing Modestamente sì, modestamente sì, prima facevo tantissimi unboxing E io, vabbè, io sono un'esperta di moda, nuove tendenze e quindi ci devo stare Benissimo, abbiamo anche i due commentatori, adesso direi di iniziare e vedere subito cosa possiamo trovare in questa calza Vediamo, 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 vediamo In realtà si vedeva già dal retro, però ho cercato di non sbirzare Oh, è una borsa, è una borsa, è una borsa, woohoo È una borsa con la OMG Diva ed è tutta sbrelluccicosa Per tutti i Glitters sto letteralmente impazzendo Per questo, guardate che bellissimi Glitters viola Mmm, sì, molto carina Allora, adesso la spiego io Dunque, dolciotti Glitters Dunque, Glitters, questa è la più classica borsa a tracolla Una tracolla ovviamente regolabile La cernierina che ha questo Charmas in CD Quello è un vinile, Jenny Ah, cioè è fatto col vino No, Jenny, i dischi in vinile sono i vecchi dischi Che si ascoltavano nel giradischi fatti in vinile Ah, vabbè, queste cose non si interessano Notare poi come il disegno qui è tutto rosa Molto super rosa con i glitter argento Poi vediamo sul retro Uh, uh, ci sono le OMG in tour Guardate che bellissima grafica Molto glamour Concordo, concordo Molto glamour E come vedete dentro c'è tanto spazio per i vostri accessori E così potete metterci dentro tutto l'occorrente per fare foto super instagrammabili Oppure bellissimi TikTok Oppure delle merendine O i vostri auricolari O... Vabbè, io sono maschio, non la uso la borsetta Comunque non userei questa glitterata Però belle ragazze, belle Bene, a quanto pare ai nostri personaggi la prima sorpresa è piaciuta molto Vediamo un po' cosa troviamo Tadam Non si vede niente Tadam Wow, questo è proprio l'unboxing di glitter È tutto viola e glitterato No, quanto sbrillo cichio Ecco Glitters, la penna delle OMG Guardate, ha questi due ciondolini Sempre quello a cuore con il disco in vinile abbinato alla borsetta E questo con il loro logo Jenny, dici, che cosa ne pensi di questa sorpresa? Io la trovo molto utile Eh, io non lo so perché io sinceramente non scrivo C-come sarebbe non scrivi? Non ne... Ma scusa, la lettera Babbo Natale come l'hai scritta? Come come l'ho scritta? Gliel'ho inviata su Instagram Lo sai che Babbo Natale sta su Instagram? Si chiama Babbo Natale Real Io non ci posso credere Ma no, ma no! Le lettere di Babbo Natale sono solo quelle inviate in Lappogna E che ti devo dire, Candy? Forse si sono digitalizzati pure in Lappogna E Babbo Natale si è fatti profilo Instagram Cioè, se pensi che il Papa c'è il profilo Twitter Purtroppo è vero Vabbè, comunque Io e Glitter lo troviamo un regalo molto utile Soprattutto per chi va a scuola Come scrivi a scuola? Ah, scuola Eh, Jenny, te la ricordi quella struttura? Con persone che vogliono insegnarti tante cose? Che ti saranno utili per tutta la vita? No, non ce l'ho presente Babbo, Camera Girl andiamo avanti che è meglio Vediamo un po' l'ultima sorpresa Almeno dovrebbe essere l'ultima Penso di sì Tadà! Il diario segreto! Guardate, sul retro del diario ci sono le tappe del tour delle OMG Il lucchetto ha sempre il ciondolino col disco in vinile per abbinarsi alle altre cose E questa è la copertina Wow, bellissima Questa OMG ci manca Bene, bene Apriamo questo diario Glitters, ci sono due chiavi Perché una dovete sempre tenerla di riserva Ovviamente nascosta E ovviamente dovreste sempre ricordarvi il nascondiglio Eccolo qui aperto Guardate che carino Oh, che bel colore È tutto sul rosa pesca Ci piace moltissimo Qui potete scrivere tutti i vostri segreti Che cos'è qua? Capito Jenny, scrivere segreti Non avrai un'app anche per questo? Beh, io no Ma semplicemente perché non ne ho tanti di segreti Io condivido tutto con i miei followers Ma ci sarà qualcosa che non vuoi condividere? Che vuoi tenere solo per te? Assolutamente no Comunque è molto carino questo diario Ci piace Glitters, ecco qui quindi le sorprese di questo calzettone 2020 È tutto super viola E soprattutto Sbrilluccicosissimo E c'è anche un po' di rosa Che non guasta mai Bene Glitters, il nostro unboxing finisce qui Speriamo tanto che vi sia piaciuto Adesso fateci sapere Anche su Instagram Cosa ne pensate di questo calzettone E se lo chiederete alla Befana Grazie mille per seguirci sempre Glitters Speriamo che questo video vi abbia divertito Sì e grazie a Jenny e Gennarino per essere stati con noi in questo unboxing Di niente Tanti baciotti Glitters E mi raccomando se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao